Ciao a tutti, sono Filippo, lavoro a CambiaValute.ch e in questo breve video vi spiegherò come funziona il servizio. CambiaValute.ch è un servizio di cambio valute online appunto, che ti permette di cambiare franchi ed euro. Per poter usare il servizio devi essere un cittadino svizzero, una persona che abbia un interesse rilevante sul territorio svizzero, un esempio pratico, un lavoratore frontaliere, oppure una ditta. Per poter usare il servizio di cambio appunto, dovrai essere titolare di un conto bancario in franchi ed un conto bancario in euro. Attenzione, è importante che tu abbia entrambi i conti. Se sei cointestatario di un conto, va bene ugualmente. La procedura di cambio è molto semplice. Vai sul sito, inserisci l'importo che desideri cambiare con la valuta appunto, ti registri e se è la prima volta ci invii i documenti. Altrimenti devi solo impartire il bonifico con l'importo che desideri cambiare alle coordinate che ricevi via mail ed il gioco è fatto. Una volta ricevuto il denaro che desideri cambiare, una volta che lo avremo sul nostro conto, ti avviseremo via mail e ti indicheremo anche di averlo cambiato e di aver inviato il denaro cambiato, scusa il gioco di parole, al conto che ci hai indicato. Usare cambiavalute.ch prima di tutto è semplice, ti registri e una volta che ti sei registrato, le tue operazioni di cambio richiedono due minuti, a dir tanto. Il secondo risparmi e risparmiando oggi, risparmiando domani, alla fine dell'anno noti la differenza. E poi vuoi dirmi che nel terzo millennio sei ancora affezionato al contante? No dai, meglio passare ai bonifici. Grazie a tutti.